e ciao a tutti eccoci qui io sono mm8 e siamo pronti anche oggi per un nuovo video oggi è giovedì quindi in teoria non dovrebbe esserci nulla ma come vi avevo detto in un post questa settimana così come la scorsa i video sono stati posticipati di un giorno poi dalla prossima 99,9% tornerà tutto a posto quindi pfps lunedì video mixato mercoledì compilation venerdì e compilation domenica salvo l'ultimo meredì del mese che ovviamente c'è lo sfizio video che c'è solo una volta al mese ma adesso cominciamo con il video mixato appunto che doveva uscire ieri e invece esce oggi appunto perché come vi ho detto i video questa settimana ancora sono stati posticipati prima di ascoltare i 10 pezzi che ho mixato per voi anni 90 e 2000 ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanella per non perdere mai nessuna notifica del canale di seguirmi su instagram e su facebook e di seguire anche la mia playlist di spotify e adesso cominciamo vai Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti